Produzione Radiomeria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori da Saverio Gaeta. Proseguo oggi in questa serie intitolata Santi e Mistici del Secondo Millennio e vi parlo di Elena Aiello, beata mistica calabrese, veramente straordinaria. Elena Aiello nacque a Montalto Uffugo, Cosenza, il 10 aprile 1895. Quarta dei dieci figli del Sarto Pasquale e della casalinga Teresa Paglilla. Venne battezzata cinque giorni dopo, lunedì in Albis, e il suo nome fu scelto dalla mamma in memoria della madre dell'imperatore Costantino, colei che aveva rinvenuto in Terra Santa le reliquie del Salvatore, con l'esplicita intenzione di consacrarla alla Santa Croce di Gesù. All'età di quattro anni conosceva già a memoria il Catechismo e a sei anni venne iscritta nell'Istituto Marigliano, guidato dalle Suore della Carità del Preziosissimo Sangue, dove non soltanto apprese le basi dell'istruzione scolastica, pur senza mai raggiungere una adeguata preparazione, ma approfondì gli elementi della dottrina cristiana al punto che, a otto anni, già veniva incaricata di insegnare le verità basilari della fede alle bambine più piccole. Quando, a nove anni, il 21 giugno 1904, ricevette la prima comunione, chiese al confessore di potersi stringere con un cilicio come penitenza, per sperimentare le sofferenze di Gesù nella passione. Era, in qualche modo, il compimento del desiderio espresso durante la sua gravidanza dalla mamma, che morì due soli anni più tardi, nel dicembre del 1906, caricando la bambina di inattese responsabilità nella vita familiare. Così, la stessa Elena descrisse quanto accadde nei giorni della prima confessione e comunione. Verso la fine degli esercizi spirituali si confessò dal padre Timoteo. Sua prima preoccupazione fu quella di esprimere un desiderio vivissimo di voler soffrire per i peccatori. Il padre confessore, conoscendo il sincero desiderio della ragazza di unirsi alla passione del Signore, alle sue insistenze di voler portare cilici di mortificazione, si piegò a darle il permesso, perché intuiva qualche cosa di straordinario. Felicissima di queste conquiste, Elena subito volle essere fornita dallo stesso padre di catenelle adatte a mortificare le sue carni innocenti. Per andare a prendere il cilicio promessole da padre Timoteo, Elena si recò nella casa della cugina Clarina, che aveva comunicazione con la casa dove erano ospitati i missionari. Togliendo il paletto di legno che sbarrava la porta, la cugina, inavvertitamente, colpì Elena alla bocca, facendole saltare i due denti incisivi. Nonostante il fortissimo dolore, con la bocca sanguinante e dopo aver raccolto in un fazzoletto i due denti, volle arrivare dal padre missionario per avere il cilicio promesso. Benché avesse già mutato i denti, dopo pochi giorni rinascevano bianchi e forti. A tredici anni, il 23 maggio 1908, ricevette anche il sacramento della Cresima, e in quel tempo, dopo aver ottenuto la grazia della guarigione da una grave malattia alla trachea, espresse alla Madonna del Rosario il voto di consacrarsi fra le religiose del santuario di Pompei. A causa della Prima Guerra Mondiale, la ragazza dovette attendere diversi anni prima di poter realizzare la propria vocazione. Ma finalmente, il 18 agosto 1920, entrò fra le suore della carità del preziosissimo sangue, cominciando il cammino di formazione nella casa madre della congregazione a Pagani, Salerno. Immediatamente, però, sperimentò una serie di gravi problemi di salute. In particolare, durante un malaccorto intervento chirurgico per asportare tessuti andati in cancrena all'altezza delle spalle, il medico le rescise a un nervo, provocando la paralisi del braccio sinistro. Una febbre persistente fece poi pensare a una tubercolosi in stato avanzato, e il timore del contagio condusse alla decisione di rimandarla a casa. Salutandola, il 13 maggio 1921, la madre generale le disse «Figlia mia, mi sarei accontentata anche di averti soltanto in cappella per pregare, ma la tua salute richiede necessariamente il rientro in famiglia. Ti auguro di guarire presto, per ritornare contenta fra di noi». In realtà, tutto si inseriva in un diverso progetto divino, come Elena comprese nella visione, avuta qualche giorno prima di lasciare il convento di Pagani di una grandissima croce, vicino alla quale c'era Gesù che la invitava ad abbracciarla, e le ripeteva «Questa è la tua croce». Tornata a Montalto o Fugo, per diversi anni la giovane si prodigò nell'assistenza dei poveri, degli anziani e degli ammalati, del circondario, intensificando nel contempo la sua vita di preghiera e di penitenza. Una grande devozione verso Santa Rita da Cascia la spinse a chiederle di intercedere per la guarigione di un cancro allo stomaco che si era improvvisamente manifestato. All'alba del 21 ottobre 1921 Santa Rita le apparve raggiante di luce nella sua stanzetta. Quanto accadde lo troviamo sintetizzato negli appunti di Monsignor Gaetano Mauro, confessore e direttore spirituale dell'epoca, che raccolse il racconto dalla viva voce di Elena. Facendo un giro attorno alla camera, si avvicinò al letto, piegò le coltri e le poggiò la mano destra sullo stomaco, dicendo mangia tutto quello che credi, perché ormai sei guarita. La sorella Evangelina dalla camera attigua vide la forte luce che, attraverso la fessura della porta, si irraggiava nella stanza di Elena e credendo si trattasse di incendio, svelta, si levò ed entrò nella stanza della sorella. Si accostò al suo letto, vide che Elena era come assopita, priva dei sensi e se ne impressionò. Chiamò gli altri familiari, temette addirittura che fosse morta. rientrata insieme a tutti di casa, trovarono Elena pienamente normale, che raccontò loro la visita di Santa Rita, la guarigione, le altre parole della visione, e chiese qualcosa da mandare giù. Le fu preparata una bella tazza di caffè con uova frullate, che Elena prese senza avvertire più alcun fastidio. Un paio di settimane più tardi, l'otto novembre, sempre Monsignor Mauro riportò che le apparve Gesù vestito di bianco. Il cuore era visibile sul petto e dalla ferita del cuore si sprigionò un raggio di luce che investì il capo di Elena, lasciando su di esso una striscia di capelli inceneriti. Mentre Gesù le spiegava che quei raggi erano l'invito del suo amore alla sofferenza, era invitata a partecipare alla sua passione, in espiazione dei peccati degli uomini. Il 2 marzo 1923, primo venerdì del mese, si manifestò per la prima volta la sua partecipazione sensibile alla passione di Gesù. Questa la drammatica descrizione negli appunti del confessore. verso le ore quindici era a letto molto sofferente per la piaga cancrenosa alla spalla sinistra. Le apparve il signore vestito di bianco, con la corona di spine. All'invito, se voleva partecipare alle sue sofferenze, Elena rispondeva affermativamente. Allora il signore, togliendosi dal suo capo la corona, la poneva sul capo di lei. A tale contatto usciva un'abbondante effusione di sangue. Il signore le comunicava che voleva quella sofferenza per convertire i peccatori, per i molti peccati di impurità, ed essere vittima per soddisfare la divina giustizia. Dopo tre ore di alterna emanazione sanguigna il fenomeno scomparve da sé. Il 9 e il 16 marzo seguenti le effusioni di sangue avvennero nel medesimo modo. Il 23 marzo si aprirono anche le piaghe sulle mani e sui piedi. Il 30 marzo, venerdì santo, si aggiunse la ferita del costato. In questo giorno, mentre verso le 18 la processione dei misteri passava sotto il balcone di Elena, la donna si alzò immediatamente dal letto e si affacciò. Ancora Monsignor Mauro annotò Quando Gesù morto passò sotto il balcone, di nuovo Elena perdeva i sensi con emissione di lacrime di sangue. Alcune gocce cadevano sulla testa della sorella Ida, affacciata al balcone sottostante. Finito il fenomeno e ritornata in sensi dopo che passò la processione, rimase con le piaghe dei piedi, delle ginocchia, del costato e del braccio destro aperte e doloranti fino al mese di giugno. Il giorno del corpus domini si rinnovò il dolore alle piaghe con una nuova effusione di sangue dalle medesime che infine si rimarginavano perfettamente. Il dottor Antonio Fabrizio, professore nell'università di Napoli, visitò Elena il 18 aprile 1924, venerdì santo. Nella sua relazione si legge fra l'altro alla faccia dorsale di ambedue i piedi in corrispondenza del terzo superiore dello spazio fra il secondo e il terzo metatarso osserviamo due lesioni di continuo quasi identiche circolari della grandezza di un centesimo a margini leggermente dentellati a fondo rosso vivo con scarsissima secrezione ematica. Alla parte plantare e quasi nella parte mediana di entrambi i piedi notiamo due lesioni di continuo più piccole delle prime con gli stessi caratteri con la sola differenza dei margini che sono più irregolari quasi frastagliati. Tali lesioni per la loro forma l'ubicazione e la configurazione dei margini danno l'impressione dei due fori di entrata e di uscita di un chiodo. Un mese più tardi ebbe da Santa Rita il preannuncio che nel pomeriggio del 22 maggio 1924 sarebbe guarita anche la paralisi del braccio insieme con le piaghe purulente nelle quali si formavano continuamente i vermi. Alle 15 di quel giorno Elena si mise a pregare in salotto dinanzi alla statua della Santa. A un certo punto secondo la viva descrizione della sorella Emma avevamo l'impressione che la mano di Santa Rita protesa verso il crocifisso si fosse scostata per raggiungere la mano del lato offeso di Elena e sollevargliela in alto e che una vibrazione scuotesse la statua e la custodia. Elena fra la commozione di noi ancora increduli ripetè sono guarita sono guarita e senza aiuto si mosse liberamente fino al balcone. quando le vogli vedere la piaga la trovai chiusa e vi si scorgeva una cicatrice sentendo intensificarsi la vocazione alla vita consacrata Elena si rivolse all'arcivescovo di Cosenza Monsignor Tommaso Trussoni il quale la incoraggiò a portare a compimento l'opera che Dio le ispirava. Con la sua prima compagna la quasi coetanea Gigia Mazza nel gennaio del 1928 si stabilirono a Cosenza e si occuparono dell'educazione dei bambini più trascurati e dell'evangelizzazione in alcuni quartieri difficili. A fine anno cominciarono anche ad accogliere stabilmente bambine orfane e verso metà 1929 il gruppo aveva superato già la Trentina. L'obiettivo venne così descritto nelle costituzioni della comunità di Suore che Suore Elena volle chiamare minime della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Raccogliere dalla strada e togliere dal vizio le bambine senza genitori e abbandonate da tutti. Renderle cristianamente educate buone massaie esperte di cuscito di telaio di ricamo e rimetterle nella vita capaci di procacciarsi il pane ed essere nella società e nella famiglia donne cristiane e civili. Le piccole possono restare nella congregazione fino all'età di 22 anni. Non si debbono dare come persone di servizio ma solo per essere legittimamente sposate. Qualora non c'è nessuna richiesta possono restare nella congregazione con speciali norme e alla dipendenza delle superiore. Il 2 gennaio 1948 la Santa Sede concesse il riconoscimento ufficiale come congregazione di diritto pontificio e a fine 1949 anche per risolvere alcuni problemi nei rapporti con il nuovo arcivescovo cosentino Monsignor Agnello Calcara venne nominato come assistente pontificio per l'istituto il gesuita Giuseppe Manzo al quale nel 1952 subentrò il cappuccino Bonaventura da Pavullo. Sorelna dovette spesso affrontare difficoltà economiche apparentemente insormontabili superate sempre con una estrema fiducia nella provvidenza divina. Sor Angela Padula una delle sue prime consorelle testimoniando nella causa di canonizzazione ha descritto diversi episodi che mostrano quanto fosse incrollabile la sua fede. In ogni circostanza difficile pregava e faceva pregare le bambine per cui diceva spesso la loro innocenza che attira le benedizioni e le grazie. Un giorno essendo vicina la Pasqua non c'era niente per il pranzo delle bambine. Sorelna chiamò tre di esse e le mandò in cappella a pregare perché il Signore mandasse loro un agnellino. le bambine ubbidirono con innocente prontezza premiate in giornata con l'arrivo di tre agnellini mandati dall'arcivesco Roberto Nogara. Un'altra volta venne a mancare l'olio non c'era neppure una goccia neanche per la lampada del Santissimo Sacramento e allora tutte a pregare. L'olio venne in un grosso barile della capacità di circa 60 litri mandato dal barone Rosario Campagna. Un giorno eravamo preoccupate perché faceva tanto freddo e le bambine erano sprovviste di indumenti pesanti né si aveva la possibilità di comprarli. Ma Sorelna diceva alle bambine andiamo in cappella a pregare Gesù ci penserà. E fu proprio così perché nella stessa giornata telefonò il prefetto Guido Palmardita dicendo che sarebbe venuto un suo amico a visitare l'asilo infantile che era intitolato alla memoria della figlia vera. Il signore venne visitò l'asilo e lasciò alle orfanelle una grossa somma con la quale furono comprati gli indumenti pesanti alle bambine mantelli di lana che tuttora si conservano. Per tutta la vita Sorelna godette di straordinari carismi di conoscenza e di profezia che la portarono a vivere dall'interno momenti drammatici della storia italiana. In particolare ebbe dal signore il preciso compito di rivolgersi a Benito Mussolini affinché si evitasse la partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale. Le pagine del diario di Sorelena descrivono tutto ciò che accadde a partire dal 1939 quando su esplicita sollecitazione di Gesù inviò una prima lettera al duce spronandolo ad esistere da ogni cattivo proposito senza però ricevere risposta. Il 13 aprile 1940 Gesù si rivolse pressantemente alla sua ora con un duro riferimento al dittatore tedesco Adolf Hitler Figlia mia diletta devi essere una vittima per il mondo specie per l'Italia dove c'è un altro Cristo in terra il mio regno è regno di pace e il mondo è tutto in guerra i governatori del mondo sono agitati per acquistare territori poveri ciechi dove non c'è Dio nessuna cosa si acquista non esiste altro che malvagità di cuore non osano che oltraggiarmi e disprezzarmi questo mostro infernale governatore della Germania cerca di travolgere l'Italia dove vi è mio figlio Angelicus la sede del mio vicario l'Italia è civile dove sta il Dio in mezzo alle anime questo demonio disturbatore di popoli cerca di travolgere l'Italia voglio che si sappia per tutto il mondo che la guerra non deve venire la religiosa tramandò ogni particolare sulle vicende che la coinvolsero gliene feci un'altra nei primi dell'anno 1940 ma neppure quella volta fui degnata di un rigo poi dopo la sua venuta in Calabria dal discorso del 30 marzo mi resi conto della gravità della situazione in cui si stava imbattendo l'Italia e non sapevo che fare nella notte del 22 aprile 1940 ebbi di nuovo la visione del Signore e così il giorno dopo spedii un'altra lettera a Roma esponendo al Duce non solo quanto avevo visto e sentito ma per annunziargli che il 2 maggio mi sarei recata a Roma per parlargli questo è il testo della missiva inviata il 23 aprile Duce vengo a voi in nome di Dio per dirvi ciò che il Signore mi ha rivelato e vuole da voi io non volevo scrivervi ma ieri 22 il Signore mi è apparso di nuovo imponendomi di farvi sapere quanto segue il mondo è in rovina per i molti peccati e particolarmente per i peccati di impurità che sono arrivati al colmo dinanzi alla giustizia del mio Padre Celeste perciò tu dovrai soffrire ed essere vittima espiatrice per il mondo e particolarmente per l'Italia dove è la sede del mio vicario affinché io possa usare misericordia per tanti peccatori e salvarli il mio regno è il regno di pace il mondo invece è in guerra perché respinge la mia legge fatta di verità e d'amore i governatori dei popoli sono agitati per acquistare nuovi territori poveri ciechi non sanno che dove non c'è Dio non vi può essere alcuna vera conquista nel loro cuore non vi è che malvagità e non fanno che oltraggiarmi deridermi disprezzarmi questi mostri infernali sovvertitori dei popoli cercano di travolgere nel terribile flagello anche l'Italia sede del mio vicario l'angelico pastore delle anime la Francia tanto cara al mio cuore per i molti suoi peccati cadrà presto in rovina e sarà travolta come Gerusalemme ingrata all'Italia perché sede del mio vicario ho mandato Benito Mussolini per salvarla dall'abisso verso il quale si era avviata altrimenti sarebbe arrivata in condizioni peggiori della Russia in ogni pericolo benché in meritevole l'ho sempre salvato adesso devi avvisarlo di mantenere l'Italia fuori dalla guerra perché sede del mio vicario e madre di civiltà se farà questo gli darò grazie e favori straordinari e farò inchinare ogni altra nazione al suo cospetto lui invece ha deciso fra un mese di fare la guerra ma sappia che se non la impedisce sarà punito dalla mia giustizia tutto questo mi ha detto il Signore non crediate o Duce che io mi occupi di politica o che legga giornali io sono una povera suora dedicata all'educazione di piccole abbandonate vi ho scritto diverse volte ma non ho avuto alcuna risposta per il 2 maggio sarò a Roma perché impostomi da Gesù per mettervi a conoscenza di ciò che mi è stato rivelato riprendiamo la narrazione di Sorelena partimmo da Cosenza la sera del 1 maggio con la vettura diretta e giungemmo a Roma il 2 mattino e fummo ospitate dalle suore di Malta in via Iberia nel pomeriggio ci recammo dalla baronessa Rossi Ruggi che avevo in precedenza conosciuta per esporle il mio desiderio ma la comunicazione non fu possibile allora la baronessa chiese di parlare con Donna Edvige la sorella più giovane di Mussolini onde consegnarle la lettera e pregarla di indurre il fratello a ricevermi a colloquio Donna Edvige era assente da Roma e noi aspettammo tre giorni essendoci stato assicurato che essa doveva rientrare dopo le reiterate quotidiane telefonate della baronessa avendo saputo che Donna Edvige era tornata e che ci aspettava a casa sua accompagnate dalla baronessa stessa io e Sorgigia ci recammo da lei accolte molto gentilmente ma con una certa diffidenza Sorgigia le offrì una scatola di saponette e io in breve le esposi le ragioni della visita quando le porsi la lettera quella signora tanto intelligente e affabile non voleva prenderla e lo fece per le mie insistenze aggiungendo che il duce non poteva ricevermi mi riferì che questi era rimasto turbato dalle mie precedenti missive e ritenendo che mi fossi rivolta a lui per aiuti mi voleva offrire una somma di danaro somma che con altrettanta gentilezza ma decisamente rifiutai dicendo che scopo della mia visita era unicamente quello di mettermi in comunicazione col duce per dirgli anche a voce che non doveva fare la guerra ricordo di averle detto che in effetti avevo bisogno di ogni aiuto ma di ciò se ne sarebbe parlato eventualmente a tempo opportuno donna Edvige era pur essa preoccupata disse che aveva tante volte supplicato il fratello ma questi nervoso le aveva risposto non posso ritirarmi perché ho parlato troppo molto addolorate ripartimmo per cosenza se non che appena il duce ebbe dalla sorella la mia lettera in quello stesso pomeriggio fu telefonato alla baronessa Rossi Ruggi che il duce ci voleva ricevere ma noi eravamo già partite questo particolare l'ho saputo due anni dopo nella notte fra l'otto e il nove maggio 1940 Sor Elena nuovamente ebbe la visione di Gesù il quale le impose di scrivere al duce poiché fra un mese egli inizierà la guerra affinché invece prendesse la decisione di consegnare insieme con il re la situazione italiana nelle mani del papa il quale avrebbe trovato la salvezza per l'Italia puntualmente la profezia si realizzò dato che il 10 giugno 1940 iniziarono per l'Italia le ostilità belliche di fatto il 15 maggio la religiosa aveva provato nuovamente a coinvolgere Edvige Mussolini inviandole la seguente lettera questo mio lungo silenzio vi avrà fatto forse pensare che io mi sia dimenticata di voi mentre invece io vi ricordo tutti i giorni nelle mie povere preghiere seguendo sempre le dolorose vicende della nostra bella Italia noi ci troviamo fuori Cosenza a causa dei bombardamenti la barbarie nemica ha sfogato il suo odio sganciando bombe sulla città di Cosenza causando devastazione dolore e morte fra la popolazione civile io mi trovavo a letto con le sofferenze tre bombe sono cadute vicino al nostro istituto ma il Signore ci ha salvato nella sua infinita bontà e misericordia per tenere lontane le bambine dal pericolo di nuove incursioni ci siamo rifugiati a Montalto Uffugo mio paese natio dove ci troviamo certamente a disagio ma tutto offriamo al Signore per la salvezza dell'Italia la ragione di questo mio scritto è per rivolgermi nuovamente a voi come nel mese di maggio del 1940 quando venni a Roma presentata dalla baronessa Ruggi per consegnarvi in iscritto le rivelazioni avute dal Signore riguardo al Duce ricordate quando il 6 maggio 1940 dicevano che il Duce aveva deciso di fare la guerra mentre il Signore gli faceva sapere nella mia lettera che doveva salvare l'Italia dalla guerra altrimenti sarebbe stato punito dalla sua divina giustizia in tanti pericoli diceva Gesù l'ho sempre salvato anche lui adesso deve salvare l'Italia dal flagello della guerra perché vi è la sede del mio vicario se farà questo gli darò favori straordinari e farò inchinare ogni altra nazione al suo cospetto invece lui ha deciso di fare la guerra ma sappia che se non la impedisce sarà punito dalla mia giustizia ah se il Duce avesse dato ascolto alle parole di Gesù l'Italia non si sarebbe trovata ora in così triste condizione io penso che il cuore del Duce sarà molto rattristato nel vedere l'Italia da un giardino fiorito trasformato in un campo deserto seminato di dolore e di morte ma perché continuare questa guerra terribilmente crudele se Gesù ha detto che per nessuno vi sarà vittoria perciò cara donna Edvige dite al Duce a nome mio che questo è l'ultimo avviso che il Signore gli manda potrà ancora salvarsi mettendo tutto nelle mani del Santo Padre se non farà questo diceva il Signore presto scenderà su di Lui la giustizia divina anche gli altri governatori che non ascolteranno gli avvisi e le direttive del mio vicario saranno raggiunti e puniti dalla mia giustizia vi ricordate il 7 luglio dell'anno scorso quando mi chiedevate che cosa ne sarebbe stato del Duce e io vi risposi che se non si fosse mantenuto unito al Papa sarebbe finito peggio di Napoleone ora vi ripeto le stesse parole se il Duce non salverà l'Italia rimettendosi a quanto dirà e farà il Santo Padre presto cadrà il Signore dice spesso che l'Italia sarà salva per il Papa vittima espiatrice di questo flagello perciò non vi sarà altra via per la vera pace e per la salvezza dei popoli fuori di quella che traccerà il Santo Padre cara donna Edvige riflettete bene come tutto ciò che ha detto il Signore si sia perfettamente avverato chi è che ha causato tanta rovina all'Italia non è stato forse il Duce per non avere ascoltato le parole di nostro Signore Gesù Cristo ora potrà ancora rimediare facendo quanto vuole il Signore io non mancherò di pregare a questo riguardo emerge un collegamento fra Sor Elena e Madre Speranza di Gesù la beata fondatrice del Santuario di Colle Valenza padre Alfredo di Penta testimoniando nella causa di canonizzazione di quest'ultima ha dettagliato che anche Madre Speranza in bilocazione avrebbe detto a Mussolini di non entrare in guerra perché l'avrebbe perduta alla risposta di Mussolini che la guerra era già vinta da parte dei tedeschi che avevano occupato mezza Europa la religiosa avrebbe ribattuto che i tedeschi pur vincendo le battaglie avrebbero perso la guerra Mussolini diceva che era costretto a intervenire per il bene dell'Italia e che con tanti abitanti era obbligato a trovare un posto al sole per tutti la madre avrebbe risposto che se lui avesse amato la sua anima come amava l'Italia sarebbe stato un grande santo ma purtroppo avrebbe aggiunto la madre questa volta voi non fate il bene dell'Italia poi gli avrebbe predetto che i suoi nemici lo avrebbero ucciso aggiungendo però di ricordarsi in quel momento che Dio era un padre e che il Signore era morto anche per lui padre Francesco Mazza che negli ultimi anni di sua relna la guidò spiritualmente ha affermato di aver saputo direttamente dalla religiosa che Mussolini alcuni anni dopo essere morto una notte le apparve in sogno le disse che si trovava in purgatorio e la incaricava di avvertire i governanti d'Italia a essere saggi nel governare altrimenti l'Italia sarebbe andata in rovina che presto la Russia invaderà l'Europa e porterà molte rovine nella nostra patria nella stessa visione vedeva la città del Vaticano invasa dai comunisti in rivolta con persecuzioni al Santo Padre e alla Chiesa in un'altra occasione le apparve De Gasperi che le manifestò di essere anche egli in purgatorio ebbe anche la visione dell'inferno ma lei reagiva perché non voleva guardare la Madonna che le era apparsa le disse ti mostrerò come sono puniti i nemici di Dio dopo qualche istante esclamò di scorgere tra le fiamme l'anima di Giuseppe Stalin con intorno un vuoto riservato ai suoi adepti il suo biografo Monsignor Francesco Spadafora ha riportato che nel 1942 Suorelena in una lettera preannunziava con esattezza la circostanza che avrebbe segnato la fine della guerra ci sarà un fuoco mai visto e allora finirà la guerra un'immagine che divenne molto più chiara quando gli americani sganciarono le bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki sempre Monsignor Spadafora nel libro Fatima e la peste del socialismo ha trascritto numerose rivelazioni ricevute dalla sua ora in particolare durante i fenomeni mistici di ogni venerdì di quaresima proponiamo di seguito le più significative in ordine cronologico indicando per ciascuna di esse la data è certamente un lungo elenco di drammatiche visioni ma come sempre occorre tener presente che non c'è mai la precisazione del tempo cui si riferiscono e che si tratta di profezie condizionate cioè che possono anche essere annullate dalla preghiera e dalla penitenza dei fedeli 20 aprile 1949 la madonna ha spiegato il flagello che verrà per punire i malvagi con queste espressioni verrà di mattina e sarà preceduto da un terribile uragano di vento che sconvolgerà tutto poi in una nube apparirà nel cielo Gesù Cristo stesso e si udrà un grido di giustizia in tutta la terra tutti incominceranno a impallidire e a tremare per lo spavento in seguito a questo grido spaventoso una densa tenebra avvolgerà tutta la terra e si scatenerà una tremenda procella di fuoco che incenerirà tutti i cattivi e i malvagi vedrete cadere a brandelli fumanti le carni dei corpi degli empi si cercheranno le caverne per sottrarsi ma sarà in vano per lo spavento morirebbero anche i buoni ma la Madonna ha detto che lei apparirà sulla terra e salverà dal flagello tutti i buoni e particolarmente quelli che reciteranno la corona del suo santo rosario 23 luglio 1949 rovina e morte verranno sul mondo verrà il flagello mai visto nella storia dell'umanità dal cielo cadrà su tutti i popoli della terra gli empi saranno distrutti 14 agosto 1949 verrà l'orrenda carneficina il flagello più spaventevole che sta per piombare sul mondo per gli oltraggi che si fanno alla divinità 9 settembre 1949 l'uomo si è ribellato contro Dio vi è un'epidemia di immoralità che porterà nel mondo rovina e morte non solo nell'anima degli adulti ma persino dei fanciulli quanti sacrilegi perfino la sede del mio vicario oltraggiata vilipesa i miei ministri la mia chiesa combattuta il flagello sarà buttato dalle mani degli angeli pochi resteranno sorella domanda morranno tutti e la madonna risponde l'umanità sarà in parte distrutta molti oltraggi riceve mio figlio dagli uomini il mondo è in rovina la russia sarà bruciata verrà desolazione e morte fuoco mai visto sulla terra i pochi che rimarranno ritroveranno il loro Dio quelli che non vogliono pentirsi delle loro colpe saranno tutti sommersi in un mare di fuoco l'Italia sarà in parte salva 23 marzo 1951 il fetore dei vizi degli uomini è salito al mio cospetto questa società perversa e dissoluta quanta impurità questo peccato che porta rovina e morte il mondo sarà tutto in guerra la russia sarà bruciata verrà verrà sul mondo rovina e morte le armi micidiali non solo stermineranno gli eserciti ma le cose più sante e più sacre i bambini gli ammalati questi iniqui governatori delle nazioni sono tutti fuori della legge della chiesa la russia sarà bruciata grida forte che solo l'italia in parte si salverà io invito gli uomini al perdono ed essi rispondono con un uragano di odio e di violenza contro Cristo perché il furore li acceca 7 agosto 1951 il mondo sarà tutto in guerra terribile sarà il castigo che piomberà sull'umanità nessuno può comprendere l'orrenda bufera che sta per sommergere l'umanità si scatenerà per tutto il mondo e in modo tragico per l'italia una rivoluzione anticristiana la veggente domanda cosa sarà dell'italia che tanto amo ed ecco la risposta molti peccati vi si commettono falsi profeti circondano il Cristo in terra queste anime mi feriscono più dei peccatori il demonio ha scatenato la più terribile battaglia contro Dio e la chiesa e ha portato tante anime sulla via della perdizione 5 luglio 1952 il peccato di impurità è reso arte seducente diabolica la maggior parte degli uomini vivono nel fango questo peccato porterà rovina e morte il mondo diventerà un vulcano di fuoco un torrente di sangue la maggior parte degli uomini sarà distrutta tutti sono indifesi 8 marzo 1953 specialmente tra la gioventù operano le forze del male e sono pronte a scatenarle su tutto il mondo non fanno più alcun mistero del loro obiettivo l'uomo è immerso nella fangosa marea di corruzione che tenta di sommergere il mondo primo aprile 1953 è la madonna che parla l'umanità si sente portata a scacciare Gesù Cristo dalla famiglia perciò il male va sempre più crescendo il peccato di impurità è arrivato al colmo non c'è speranza di un'era di pace il mondo sarà tutto in guerra si semina crudelmente la distruzione e la morte la Russia scaglierà tutte le forze del male su tutte le nazioni e distruggerà a suo tempo la parte migliore del mio gregge passerà per la purificazione come il più grave flagello nella storia del mondo il materialismo avanza verrà una guerra che distruggerà popoli e nazioni gli uomini cammineranno sopra i cadaveri il sangue scorrerà a rivi la fiamma infernale corre veloce su tutta l'umanità 7 novembre 1953 la chiesa è ferita dall'interno ed esternamente ormai le tenebre copriranno la terra perché sono dominate da satana le forze del male avanzano e le forze del bene retrocedono 16 aprile 1954 verrà sul mondo una grande rivoluzione con grande spargimento di sangue un incendio di fuoco il flagello durerà 70 ore 4 marzo 1955 le chiese sono deserte le anime consacrate mi lasciano solo nel tabernacolo pochi sono quelli che mi amano la chiesa sarà molto travagliata una terza parte degli uomini si salverà il tempo non è lontano e il mondo diventerà un vulcano di fuoco l'ora presente è una delle più terribili per l'umanità per la chiesa per il cristo in terra si può dire proprio l'ora di satana i miei ministri non predicano più l'evangelo 6 aprile 1955 il mondo è diventato una vasta tomba di morti e di morenti l'innocenza dei fanciulli è insidiata la gioventù è perduta per lo scandalo e il disordine della vita coniugale viene il mondo una guerra fratricida l'odio corrompe l'umanità 8 aprile 1955 solo con la sofferenza e con la preghiera in parte si può salvare il mondo questi avvisi non devono rimanere sepolti ma si devono conservare gelosamente affinché la nuova generazione cioè quella dei superstiti dal grande flagello sappia che gli uomini e i popoli sono stati avvisati in tempo per ritornare a Dio e per far penitenza se pentiti fossero ritornati a Dio la giustizia del padre non sarebbe piombata sul mondo e avrebbe risparmiato questo flagello terrificante guarda gli angeli con in mano recipienti pieni di fuoco sono come tante fiaccole servono per rovesciarle sul mondo il castigo sarà spaventoso scenderanno sul mondo come tante saette di fuoco buttate dagli angeli sulla terra il fuoco cadrà a pezzi un solo colpo però non cagiona la morte di tutti gli uomini saranno puniti secondo i debiti contratti con la giustizia divina questo spaventoso flagello verrà nelle prime ore del mattino i peccatori gli empi saranno distrutti le anime giuste i devoti del mio rosario non morranno ma sentiranno il dolore della morte momento spaventoso sarà per i giusti per i peccatori e per gli empi tutti devono assistere con lo strazio nell'animo tutti contempleranno questa visione gli occhi di tutta l'umanità si solleveranno verso il cielo il cielo si tingerà di rosso la tempesta sarà di fuoco si scatenerà per tutto il mondo diverse nazioni devono scomparire delle altre saranno purificate 30 marzo 1956 la russia spanderà i nuovi errori su tutto il mondo promuovendo guerra persecuzione contro la chiesa non si convertirà l'italia è la regina delle nazioni ma se non si prega sarà peggiore della russia e sarà molto travagliata roma deve pagare i suoi errori i suoi gravi peccati l'italia sede del vicario di cristo sarà umiliata il materialismo si fa sempre più aggressivo 7 ottobre 1956 la russia spanderà i suoi errori su tutto il mondo verrà una guerra mai vista tutte le nazioni scenderanno in campo di battaglia la guerra fratricida è prossima 8 dicembre 1956 gli uomini offendono troppo dio il mondo è tutto sconvolto perché è diventato peggiore che ai tempi del diluvio il materialismo avanza e continua la sua marcia segnata di sangue in lotte fratricide vi sono segni evidenti e pericolosi per la pace il flagello sta passando sul mondo come l'ombra di una nube minacciosa per testimoniare agli uomini che la giustizia di dio preme sull'umanità e che la mia potenza di madre di dio contiene ancora lo scoppio dell'uragano tutto è sospeso come a un filo quando questo filo si spezzerà la giustizia divina piomberà sul mondo e compirà il suo terribile corso purificatore tutte le nazioni saranno punite perché molti sono i peccati che come una marea di fango hanno ricoperto la terra le forze del male sono preparate a scatenarsi in ogni parte del mondo con aspra violenza tremendo sarà lo sconvolgimento per quello che avverrà già da tempo ho avvisato gli uomini in tanti modi i governatori dei popoli avvertono il pericolo gravissimo ma non vogliono riconoscere che per evitare il flagello è necessario far ritornare la società a una vita veramente cristiana il tempo non è lontano e tutto il mondo sarà sconvolto molto sangue sarà versato di giusti di innocenti di santi sacerdoti e la chiesa soffrirà molto l'odio arriverà al colmo l'italia sarà umiliata purificata nel sangue e dovrà molto soffrire perché molti sono i peccati in questa nazione prediletta sede del vicario di cristo non puoi immaginare quello che accadrà si svilupperà una grande rivoluzione e le vie saranno arrossate di sangue il papa soffrirà molto e tutto questo soffrire sarà per lui come un'agonia che abbrevierà il suo pellegrinaggio terreno il suo successore guiderà la nave nella tempesta ma non tarderà la punizione degli empi quel giorno sarà spaventoso nel modo più orribile la terra tremerà e scuoterà tutta l'umanità i malvagi periranno nei tremendi rigori della giustizia di dio 11 febbraio 1957 la russia non si convertirà ma spanderà i suoi errori su tutte le nazioni specie sull'italia perché questa deve pagare i suoi errori e avrà tanto da soffrire 4 aprile 1958 l'umanità sarà purificata dal peccato e sarà lavata nel proprio sangue i governanti dei popoli non vogliono la luce di dio tra essi sono quelli dell'italia perché si servono del mio nome e di quello del mio figlio gesù dicono di essere cristiani ma sono contro le leggi evangeliche è sempre la madonna che parla questa generazione meriterebbe di essere annientata perché il mondo è reso peggiore del tempo del diluvio comparirà nel cielo una nube che si ingrandirà e annegherà popoli e nazioni una nube rossa come il fuoco attraverserà il cielo tutto questo durerà tre giorni e tre notti fitte tenebre avvolgeranno la terra durante questi tre giorni bisogna rimanere in casa i cadaveri copriranno tutta la terra 15 settembre 1958 il comunismo dilaga per tutto il mondo il materialismo ha la sua grande organizzazione mai vista sulla faccia della terra ha rovesciato i diritti della chiesa depositaria del santo evangelo le sue forze sono potenti diffonde i suoi errori suscitando guerre rivoluzioni persecuzioni contro la chiesa perciò i religiosi i sacerdoti il clero tutto le anime a me consacrate e i devoti del mio cuore devono essere in prima linea per combattere il materialismo con il loro esempio vivendo una vita santa devono salvare le anime si devono impegnare col loro apostolato a combattere il materialismo per conquistare il regno di Cristo se non si prega l'Italia sarà invasa dalle truppe russe 27 marzo 1959 i governatori dei popoli sono fuori della luce di Dio specie quelli d'Italia essi sono pieni di falsità si servono del mio nome e di quello del mio figlio Gesù il materialismo avanza veloce su tutte le nazioni e continua la sua marcia segnata da rovina e da morte ha il veleno sulle labbra nel cuore per avvelenare tante anime il peccato d'impurità quante stragi compie tra la gioventù in mezzo ai fanciulli più ne esiste la famiglia cristiana non fanno più mistero vogliono cacciare Cristo dalle famiglie dalle scuole dalle officine dalla società dalle coscienze pregate molto Roma sarà punita la Russia sorgerà su tutte le nazioni specie sull'Italia e pianterà la bandiera rossa sulla cupola di San Pietro e la basilica sarà circondata da leoni tanto feroci 22 agosto 1960 l'ora terribile avanza sul mondo diverse nazioni saranno colpite specialmente l'Italia con rivoluzioni sanguinose l'ora della giustizia di Dio è vicina e sarà terribile e se gli uomini non ravviseranno in questi flagelli i richiami della divina misericordia e non ritorneranno a Dio con una vita veramente cristiana un'altra guerra terribile verrà da est a ovest e la Russia con le sue armi segrete combatterà l'America travolgerà l'Europa e si vedrà specialmente il fiume Reno della Germania pieno di cadaveri e di sangue il Papa dovrà tanto soffrire il leone ruggente avanzerà sulla cattedra di Pietro per diffondere i suoi errori il fiele della Russia avvelenerà tutte le nazioni specialmente l'Italia 31 marzo 1961 queste furono le ultime rivelazioni date a sorena dalla Madonna l'umanità non ritorna al mio cuore e a quello del mio figlio Gesù il mondo si sprofonderà nell'abisso la Russia diffonderà i suoi errori su tutte le nazioni specialmente sull'Italia il mondo è caduto troppo in basso ha bisogno di castighi di flagelli per essere purificato gli uomini non riconoscono più il loro Dio il loro Dio è il peccato il piacere la disonestà nessuno ritorna a Dio attireranno così i più tremendi castighi di sterminio e di morte su tutte le nazioni specialmente sull'Italia la Russia è guidata da Satana perché vuole il dominio assoluto di tutta la terra la chiesa sarà perseguitata e il papa e i sacerdoti dovranno tanto soffrire a questo punto suore Elena descrive quanto vede vanno in Vaticano prendono il papa il papa è solo prega lo prendono lo buttano per terra lo legano oddio aiuto aiuto ammazzano il papa quei bruti oddio lo pestano che cosa si vede la Madonna si avvicina gli uomini cadono per terra morti la Madonna rialza il papa lo prende per il braccio lo copre con il suo manto oh Dio che cosa si vede si spezzano le bandiere cadono le aste cadono i bastoni non aver paura che non lo toccano gli scellerati senza Dio gridano no non vogliamo che Dio regni su di noi deve regnare Satana la Madonna mantiene il papa sotto il suo manto negli ultimi anni di vita della religiosa si segnalarono ulteriori manifestazioni straordinarie padre Francesco Mazza descrisse in un resoconto all'arcivesco di Cosenza quanto avvenne a partire dal 29 settembre 1955 su un pannello di legno fissato sul muro della camera da letto di Suorelna dove c'erano alcune gocce ormai secche di sangue sprizzate dal suo volto durante le esperienze mistiche della passione verso la mezzanotte mentre Suor Luisa Perna che l'assisteva le dava alcune gocce di canfora balenò una luce sull'angolo sinistro e inferiore del suddetto pannello attirando la meraviglia e l'attenzione delle due suore ed esse videro del sangue scorrere dalle antiche disseccate gocce del pannello Suorelna accostò le sue dita al legno e le ritrasse rosse di sangue al mattino riscontrò bagnata di sangue la bianca sopraccoperta aderente al tramezzo via via si notò che i lineamenti di un volto cominciarono ancor meglio nitidi e precisi ad elinearsi sul pannello e così per le altre feste riferentesi in particolare ai misteri della passione e morte del redentore il sangue scorre in particolare dagli occhi dell'effigie che richiama un'immagine di Gesù nella sua passione le analisi di laboratorio dimostrarono che si trattava di sangue umano e il fenomeno proseguì periodicamente sino alla morte della suora che avvenne il 19 giugno 1961 a Roma dove aveva voluto recarsi a tutti i costi per l'ultima volta l'otto giugno presentendo la fine ormai vicina padre Bonaventura commentò ha spiccato il volo per l'eternità da questa città eterna da essa tanto amata da questa città santa i funerali si svolsero a Cosenza il 21 giugno seguente e successivamente per tre giorni migliaia di persone resero omaggio alle sue spoglie in un mesto pellegrinaggio nella cappella della casa madre in via dei martiri al momento della morte di sua relena le suore della congregazione erano circa 150 divise in 18 case nel corso degli anni la loro presenza si è dilatata anche all'estero a Lucerna Svizzera Toronto Canada Rio de Janeiro e Pancas Brasile e Pitalito Colombia il docente di mistica padre Luigi Borriello ha individuato come fonte ispirativa di suor Elena l'ideale del grande San Francesco da Paola e più precisamente la sua eccezionale carità verso Dio e verso il prossimo e ha indicato come chiavi di lettura della vita e dell'opera della religiosa l'amore nella sua duplice direzione sopraffatta dalla potenza di Dio nella sua vita quest'umile donna del popolo manifestò il suo ardente amore per il Cristo della croce trovandovi consolazione e speranza all'amore verso Dio fece eco l'amore concreto per gli uomini non fondato su un ideale umanitario ma quale conseguenza del suo rapporto intimo d'amore con Dio e fu proprio questo amore per gli uomini a imitazione del Cristo della croce che mise in moto nella sua vita forze creatrici al servizio degli altri riflettendo sul senso delle manifestazioni soprannaturali verificatesi nella religiosa padre Borriello ha aggiunto che pur nelle sue sofferenze più atroci e strazianti non è riuscita a salvare nessuno con le sue ferite di sangue il suo sacrificio d'amore se visto in chiave negativa o giuridica è un assurdo non approda a nulla non ha nessun significato ma se invece il suo martirio d'amore va visto come comunione d'amore insieme al Cristo della croce e all'umanità sofferente le cose cambiano aspetto concretamente Sorelna dimostra con la sua vita sofferente che nella passione di Cristo fatta sua Dio è vicino a ogni uomo compresa la sua sofferenza in realtà è la testimonia che nella passione di Cristo è visibile la solidarietà di Dio con tutti coloro che soffrono anzi di più la partecipazione alla passione di Cristo è altresì partecipazione alla sua vittoria sulla morte sul peccato e sulla sofferenza umana in virtù della sua glorificazione dei morti difatti la risurrezione di Cristo dalla morte sta a significare che la sofferenza e la morte non sono i vincitori di questo mondo nel 1982 fu autorizzato dalla Santa Sede l'avvio della causa di canonizzazione che si svolse nella diocesi di Cosenza fra il 1985 e il 1987 il 22 gennaio 1991 venne ufficialmente riconosciuta l'erosità delle virtù cristiane dopo l'approvazione della guarigione miracolosa di una donna in coma nel 2002 per un incidente stradale il 14 settembre 2011 sorella Aiello è stata proclamata beata giunge così al termine questa puntata della serie Santi e Mistici del secondo millennio che in questa occasione ho dedicato alla beata Sor Elena Aiello c'è ora il tempo di un dialogo con voi ascoltatori pronto? si buonasera buonasera salve salve sono Vito Stefano dalla provincia di Bari io sono un devoto della beata Aiello niente le volevo chiedere siccome delle profezie dell'Aiello parla della Russia che invaderà l'Europa il ciumerino pieno di cadaveri ci sono anche di Akita che parla di fuoco dal cielo ci sono dei riferimenti oltre a Fatima in riferimento ai dieci segreti di Medjugorje volevo dire una precisione che la beata Aiello ebbe anche due miracoli per l'intercessione di Santa Rita uno ha un tumore allo stomaco e poi la cicatrice che gli rimase al braccio quello paralizzato lei quando era piccola voleva convertire un massone questo massone gli presse una bottiglia di vetro gliela buttò appresso e quella cicatrice rimase il segno quando era piccola dal suo renaiello e rimase con la cicatrice su quel braccio paralizzato famoso che poi fu guarita per l'intercessione di Santa Rita e niente volevo sapere riferimenti ad altre profezie tipo Achita il fuoco dal cielo questo del tre giorni di buio sulla profezie del tre giorni di buio se diciamo sono profezie in divenire che con le nostre preghiere possono essere diciamo mitigate in prospettiva di Egitto segreti di Medjugorje perché più o meno ci sono sempre profezie ovviamente come dicevo anche nella puntata condizionate è ovvio che tutto quello che riguarda il futuro non ci è dato di sapere se avverrà in quei termini oppure se le nostre preghiere i nostri sacrifici le penitenze avranno la possibilità di rendere minore tutta la fatica che presumibilmente queste profezie ci fanno pensare che avverrà ma non devono mai essere delle profezie ritenute qualcosa che deve spaventarci proprio perché sono un invito un richiamo un appello del cielo alla conversione è come un papà che dice a un figlio se ti comporti bene avrai questo regalo altrimenti in qualche modo riceverai un qualche tipo di punizione che serve ad aiutarci non certo a reprimerci se è chiaro questo allora anche tutte le drammatiche profezie che El Naiello ed altre Beate e Sante hanno appunto preannunciato e che personalmente ho raccolto sia nel libro Le Veggenti sia in una serie di altri libri dedicati alle profezie mariane e sia in questa serie che sto raccontando in questi mesi la quarta domenica del mese sulle profezie alle Beate alle mistiche del secondo millennio ci permettono di dire che oggettivamente la questione della Russia è sempre molto presente anche ad esempio nella profezia di Bruno Cornacchiola Le Tre Fontane è stata molto calcata dalla Vergine la questione del rischio che la Russia possa ancora essere pericolosa è chiaro che tutto questo fa parte del processo complessivo avviato a Fatima per esempio nella terza parte del Segreto dove si parla appunto di quello che può essere questo rischio e della richiesta della Madonna di Fatima della consacrazione della Russia al suo cuore immacolato può essere collegato anche ad altre vicende dei segreti di Medjugorje ovviamente non abbiamo notizie perché sono segreti quindi può esserci qualche relazione o no ma questo lo sapremo soltanto nel momento in cui la veggente Mirian avrà il compito di rivelarli ma appunto non dobbiamo però cadere nel rischio di pensare soltanto a queste profezie come una minaccia pensiamo che sono degli allarmi che d'altra parte la situazione che stiamo vivendo ci fa conoscere e riconoscere anche soltanto leggendo i giornali ascoltando la televisione i rischi che vediamo sono costanti pensiamo alla nostra conversione pensiamo a fare ciò che compete a noi e tutto il resto ovviamente sarà nei piani di Dio e della Madonna secondo quello che è proprio il prosieguo della storia che ci attende pronto? Sì eccoci buonasera buonasera sono Giovanna da Palermo ho sentito le parole che ha detto un altro signore che era in linea prima io però chiamo perché proprio mi affascina questa vita di Sor Aiello desideravo sapere quale libro però completo che una può comprare per leggerla con attenzione meditare anche la vita di Sor Aiello sì sì certo basta andare il sito sì certo se le guarda sul sito delle suore minime vede che ci sono vari libri in realtà diciamo che sono stati scritti diversi libri soprattutto quando è stata svolta la cerimonia di beatificazione in particolare le edizioni paoline hanno pubblicato un libro di Giuliana Amodio proprio dedicata alla Beata Daniello poi è disponibile anche il libro di Monsignor Spadafora proprio dedicato a Sor Aiello che come biografia è molto molto buona e diciamo che nelle biblioteche si trova anche il libro di uno dei suoi devoti dell'epoca De Napoli la monaca santa si chiama questo libro e non è reperibile diciamo nelle librerie in commercio però si trova comunque sia nelle biblioteche chi anche attraverso il sito appunto delle suore si può provare a chiederlo il sito appunto delle suore basta solo cercare su un qualsiasi motore di ricerca minime appunto di El Naiello e si trova facilissimamente questo sito dove c'è una ricca bibliografia e dove comunque si trova anche molto materiale già soltanto sul sito che racconta la vita le opere le profezie e soprattutto il carisma e il messaggio che attraverso suore El Naiello il cielo ci ha voluto dare questo messaggio che la sofferenza ha un senso salvifico un messaggio che tanti santi e beati ci hanno dato nel corso della storia El Naiello è una di queste testimoni concrete del fatto che la sofferenza se vissuta con l'amore verso Dio e verso il prossimo ha anche un compito salvifico non soltanto per la persona che la vive ma anche per tutti quelli che ruotano attorno a lei per tutti quelli che la vengono a conoscere quindi merita assolutamente di leggere ancora di più sulla vita e sulle opere della Beata Aiello e il sito delle suore e quei libri che citavo lo permetteranno fortemente sarebbe La monaca santa La monaca santa esattamente Le minime di San Francesco di Paola sono le minime di appunto di Suorenna Aiello deve cercare minime di Suorenna Aiello va bene la ringrazio molto grazie e una buona serata grazie buona serata a lei buona sera pronto prego buona sera salve siamo degli studenti dell'Università Cattolica di Roma sì e noi stiamo ascoltando qui le profezie di Sant'Elena ma non capivamo perché fossero solo negative non ci fosse nessun tipo di aspetto positivo più che altro la mia richiesta era la mia richiesta era perché legati ad una dossier politica quale il comunismo e non a un ideale comunque che si erge metatisticamente oltre quella che è la filosofia etica politica che sappiamo essere un gravino inferiore certo intanto bisogna sempre tenere presente un piccolo particolare che bisogna contestualizzare tutte le profezie di cui sto parlando in questi mesi all'epoca in cui è vissuta la persona a cui ci riferiamo nelle prime puntate ho parlato anche di sante e beate vissute nell'anno mille mille cinquanta nell'anno mille duecento mille quattrocento è chiaro che in quell'epoca c'erano delle profezie legate a dei problemi del tempo sora Caterina Emmerich che è del appunto settecento ottocento come anche altre sante e beate di cui ho parlato parlano delle problematiche dell'epoca Napoleone e altre questioni relative a quel tempo la suora Elnaiello che è vissuta dal 1895 quindi in pratica ha vissuto quei sessant'anni fino agli anni sessanta non è una di cui si può parlare in termini di attualità stretta è ovvio che quindi tutta la questione e la problematica della Russia del comunismo sono legate a quell'epoca in cui è vissuta lei lo stesso fatto che abbia avuto molto da fare in relazione a Benito Mussolini è proprio perché è vissuta in quell'epoca fosse vissuta in un'epoca precedente o successiva probabilmente avrebbe avuto il compito di parlare non so a Napoleone o a Putin in qualche modo è questa un po' la logica di queste cose l'altra questione che ovviamente è quella che in tematiche come questa della mistica è sempre presente è la profezia al negativo la questione di fondo è che il positivo è tutto il resto della vita di qualunque di queste mistiche sante beate serve di Dio fondatrici di congregazioni tutto il resto della vita che ho raccontato anche in questo caso con tutti i vari carismi tutte le varie missioni che hanno messo in atto queste figure è il positivo del Vangelo è il positivo della fede il positivo di tutto ciò che è legato alla nostra vita cattolica alla nostra vita di fede quelle profezie che sono al negativo sono appunto il grido d'allarme che il cielo ci vuole dire perché sono comunque tutte rivelazioni che arrivano dal cielo il fatto che queste figure siano beate e sante non immediatamente riconosce ufficialmente la veridicità di queste profezie ma ovviamente in maniera informale la riconosce perché altrimenti se fossero state ritenute false queste figure non sarebbero mai divenute né sante né beate detto questo quindi queste profezie non devono né scandalizzarci né colpirci oltre un certo limite per la loro negatività perché sono sempre profezie condizionate sono come un grido d'allarme come un appello del cielo che ci chiede di pregare di fare penitenza di vivere anche in modo che non accadano cose che possono capitare molto semplicemente mi rendo conto perché poi è difficile fare dei paralleli ma è come se uno dicesse appunto uno studente di liceo uno studente universitario guarda che devi studiare ogni giorno altrimenti fra sei mesi quando ti presenti all'esame non riesci a rispondere all'esame se vieni bocciato poi è colpa tua ecco non è poi colpa di chi fa questo appello alla coscienza dello studente affinché studi ogni giorno la colpa eventuale della bocciatura perché ovviamente l'appello deve essere poi raccolto dall'altra parte mi rendo sempre conto che sono esempi banali e molto semplici però è questo il concetto se si dice guarda che delle possibili situazioni di rischi futuri di guerre di cataclismi ci sono sono presenti ma dato che Dio è onnipotente anche attraverso la preghiera dell'uomo tutto questo può risolversi in una maniera migliore più positiva rispetto a quello che magari potrebbe andare non è semplicemente un qualcosa di così di magico o semplicemente di invito a pregare per ottenere un risultato positivo è l'appello invece a convertirsi cioè a vivere sempre alla luce del progetto divino e sempre con la consapevolezza che chiedere al cielo il nostro bene non è mai un qualcosa di problematico è sempre un qualcosa che ci apre alla speranza ci apre a quello che è il destino eterno poi di fondo la nostra felicità eterna che è molto semplicemente noi definiamo il paradiso ecco se sono riuscito a spiegarmi appunto sono contento perché questa è sempre un po' una problematica dell'ambito mistico che crea disagio ma studiandola approfondendola si comprende poi fino in fondo perché queste figure hanno avuto il compito di dare questi annunci di lanciare questi appelli e questi allarmi sempre in questa chiave non di terrorismo psicologico ma di appello e di invito a operare in favore del bene pronto sono Laura telefono da Cosenza io ho una testimonianza siccome io ho conosciuto sorella Aiello quando ero piccola perché ho fatto il catechismo da una fuori del suo del suo convento e ho fatto pure la prima comunione avevo nove anni nella cartellina proprio del convento di sorella e persino la sera prima di sposarmi nel dicembre del 54 sono andata lì dico mio marito perché mio marito era medico dico ero perché purtroppo è morto da diversi anni però insomma mia madre aveva insistito farla vedere che cosa dargli un parere specialmente per quanto riguardava la pressione altri problemi di salute che aveva oltre alle stimmate insomma aveva le dende alle mani e quindi insomma è stata proprio una benedizione l'ho vista da per tutti una benedizione nella mia vita addirittura ha compiuto dei miracoli per me a livello spirituale proprio nel vero senso della parola perché insomma era ero molto indietro spiritualmente addirittura per un certo periodo lontano completamente dal Signore e quindi ho avuto questo proprio davvero una guarigione spirituale che è molto più importante delle guarigioni fisiche e poi è stata presente anche alla sua verificazione al campo sportivo di Cosenza e la testimonianza della signora che ha avuto il miracolo sul maxischermo quindi è stata una cosa meravigliosa certo perché appunto il compito di queste persone che hanno poi anche alle volte la responsabilità di lanciare quegli allarmi che dicevamo e che devo sempre ricordare non lo hanno vissute non le hanno vissute queste cose con come dire con una piacevolezza di fondo perché tutti quelli che hanno ricevuto queste profezie in genere hanno sempre avuto poi una vita molto faticosa molto difficile umanamente parlando ma sapendo che era volontà divina tutto ciò che hanno fatto hanno però vissuto tutto nel desiderio di compiere la volontà di Dio e allora questa testimonianza è bella proprio perché ci permette di confermare come figure come sorelle Nagiello come tante altre beate sante mistiche permettono alle persone che le conoscono di sperimentare la bontà di Dio l'amore di Dio l'amore di Maria attraverso proprio gli occhi la bocca anche le mani la presenza di queste persone perché nella loro vita c'è proprio quasi la fisicità della presenza del Signore la presenza della Madonna e loro testimoniano documentano traspondono in chi le conosce tutto quello che hanno vissuto nel loro intimo tutta la spiritualità che hanno vissuto personalmente ma anche dopo la morte proprio perché nella comunione dei Santi queste figure sono ancora vive e presenti nella vita di tutti noi permettono a chiunque le voglia conoscere di godere i frutti di questo insegnamento comprendono di godere ulteriormente del carisma che loro hanno incarnato in vita e ci permettono proprio di vivere i frutti di quello che loro hanno seminato gli alberi che loro hanno piantato ecco in questa maniera possiamo renderci conto di come nel corso della storia del cristianesimo tante figure ci permettono di essere quello che siamo oggi proprio perché hanno vissuto per prime hanno testimoniato e ci permettono di essere certi della bellezza della nostra fede della bellezza dell'esperienza cristiana Sora Elena è appunto una di questi testimoni e quello che ci raccontava l'ascoltatrice è appunto una delle conferme pronto? Sì buonasera pronto? Buonasera dottore Gaeta sono Orazio della provincia di Reggio Calabria le volevo chiedere si nota da Fatima in poi una presenza costante della Russia nei messaggi profetici nel senso si è dovuta scomodare persino la Vergine Maria nel 17 per risaltare questa importanza sulla Russia sicuramente sui suoi errori ma forse non è un caso che nel 1920 è stata proprio la Russia a come si dice a promulgare la prima legge sull'aborto cioè gli errori della Russia non sono fondamentalmente soltanto inerenti al comunismo c'è qualcosa di più pesante probabilmente ecco perché forse ancora la sua pesantezza non sia ancora rivelata del tutto nel corso della storia quindi questa insistenza in realtà è un fondamento particolare ma diciamo che sempre nelle profezie è presente il rischio del male in senso assoluto quindi quando parliamo della Russia ovviamente non dobbiamo semplicemente pensare a una nazione dobbiamo pensare un'ideologia che nel corso di questo ultimo secolo in particolare ogni tanto è tornata a galla come anche ovviamente in altre profezie si è parlato del nazismo del fascismo e quindi non è la questione semplicemente ideologica o politica per cui si parla per dire del comunismo come ambito ideologico puro si parla del comunismo del fascismo del nazismo di tutti i totalitarismi come anche di tutto quello che è l'integralismo ad esempio islamico come sono tutte quelle che sono le persecuzioni che la Chiesa sta subendo proprio in questa chiave di rischio che la forza prevalga sulla ragione la forza semplicemente brutta o il totale disinteresse per i diritti umani il totale disinteresse per quelle che sono appunto la difesa della vita dal concepimento fino alla fine naturale come si dice sempre proprio perché è nella dinamica cristiana questa difesa ecco in questa chiave possiamo riconoscere in alcune nazioni una attenzione maggiore e in altre un'attenzione minore certamente quindi non dobbiamo fossilizzarci soltanto sul concetto quindi come dicevo prima geopolitico o ideologico ma pensare che alcune ideologie continuano a essere presenti in alcune nazioni e sono sempre un po' a rischio che cosa però il futuro ci riserverà francamente nessuno di noi può dirlo con certezza e gli allarmi che vengono lanciati questi appelli devono essere come sempre dico visti come un invito a prestare attenzione a non cadere nelle spire di questa violenza ma soprattutto come un appello personale a ciascuno di noi quindi non agli altri ma a noi in prima persona a convertirci a vivere sempre di più nella dinamica della preghiera nella dinamica anche del sacrificio per quello che uno personalmente può permettersi proprio perché nella comunione dei santi tutto quello che facciamo noi tutto quello che fanno gli altri converge va a coinvolgere tutto ciò che poi ci riguarderà e quindi per l'ennesima volta lo ripeto nessuna paura nessun timore soprattutto se noi viviamo una vita di fede di conversione di preghiera tutto il resto non ci deve preoccupare potrà anche succedere qualcosa di drammatico di brutto come talvolta purtroppo nel corso della storia è successo ma noi sappiamo che il nostro destino la nostra storia è indirizzata al bene alla vita eterna al paradiso bene ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno chiamato anche quelli che purtroppo non è stato possibile mandare in onda perché il tempo ovviamente è sempre limitato a quella mezz'ora che appunto ci permette di dialogare senza però andare oltre un certo limite ma è molto bello avere queste testimonianze da parte vostra e soprattutto interagire proprio perché le domande che fate normalmente sono sempre molto interessanti e permettono di affrontare qualche particolare qualche aspetto che magari all'interno della puntata non è stato possibile mettere a fuoco sino in fondo vi ricordo che questa era la puntata dedicata a Sor Elena Aiello beata Sor Elena Aiello che è una delle figure mistiche più importanti dell'ultimo secolo sicuramente una di quelle figure che ci insegna come vivere non soltanto la sofferenza ma anche l'amore e la carità nei confronti degli altri quindi vivere la sofferenza in maniera salvifica senza nessun desiderio di voler masochisticamente patire e vivere una esperienza di sofferenza soltanto fine a se stessa ma appunto una esperienza di condivisione della passione delle sofferenze di Gesù nella chiave della salvezza propria e soprattutto ancora più degli altri per i quali si spende tanto amore tanta carità tanta missione Sor Elena attraverso anche le sue suore continua a portare avanti questo suo carisma vi ringrazio quindi per l'ascolto di questa puntata e per la partecipazione anche attraverso queste domande vi do appuntamento alla prossima puntata che sarà appunto la quarta domenica del mese di settembre sempre in questa rubrica Santi e Mistici del secondo millennio per chi avesse intenzione e interesse a seguire ulteriormente a leggere ulteriormente di queste figure nel libro Le Veggenti che ha pubblicato per Salani ci sono molte di queste profezie molte di queste grazie a tutti Grazie a tutti.